8 mesi di sperimentazione hanno dato esito positivo, adesso il Comune di Milano intende riparare le centinaia di buche nelle strade milanesi con un nuovo asfalto che promette meraviglie. L'assessore Carmela Rozza ha effettuato un sopralluogo stamane in via Porpora nei pressi di piazzale Loreto dove otto mesi fa era stato posto il nuovo asfalto. Dove l'innovativo materiale era stato collocato le buche non si sono riformate e questo fa ben sperare. Si tratta di una miscela contenente polimeri che solidificano rapidamente il passaggio di auto e camion, compatta ulteriormente il materiale invece che sbriciolarlo come avveniva precedentemente. I tecnici ricordano che fino ad aprile a causa delle basse temperature delle piogge non è possibile effettuare la riasfaltatura delle strade dove il Comune ha già stanziato 60 milioni di euro ma per il momento possono essere portati a termine solo interventi di tappatura delle buche. Questo è quello nuovo, vedete non si sgrana, anche facendo pressione scane appena, non sprofondi e questo più passano le macchine più si attacca ed è già rappreso e quindi tiene. Abbiamo avuto degli ottimi risultati come vi facciamo vedere dove l'abbiamo messo a maggio dell'anno scorso e adesso tutti i reparti strade sono muniti del nuovo materiale. Da una settimana le buche le copriamo col nuovo materiale e già abbiamo fatto un esperimento in questa zona. Nel mese di gennaio del 2013 avevamo coperto 960 buche, quest'anno nel gennaio 2014 600, quindi significa che non siamo tornati dove le buche le avevamo coperte l'anno scorso. I maggiori costi vengono coperti da una maggiore efficienza? I costi aggiuntivi in questo momento non sono a carico dell'amministrazione perché anche le ditte appaltatrici che fanno le manutenzioni, cioè la copertura, la colmatura delle buche hanno valutato loro stessi che siccome non è che paghiamo a buca, di conseguenza hanno valutato loro stessi che usando questo materiale si riesce e coprono meno buche e quindi hanno meno attività, cioè risparmiano in uscite e quindi ammortizzano la differenza di prezzo. Grazie. Grazie.